Ciao Antonio, grazie per la domanda. Mi dai modo di raccontarti un po' come lavoriamo qui in Gibus. Devi sapere che tutti i nostri prodotti sono al 100% made in Italy, dalla progettazione alla produzione. La nostra sede è a Saccolongo, in provincia di Padova. Qui disegniamo e realizziamo tutte le tende e le pergole. Per essere più precisi, tutta la produzione avviene in due stabilimenti che si trovano a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro, per un totale complessivo di 20.400 metri quadri di superficie produttiva. Ci piace definirci un'azienda che sa combinare la precisione industriale con il sapere artigianale, perché il nostro processo produttivo unisce l'alta tecnologia di macchinari all'avanguardia con la presenza costante della mano di operatori esperti. È in questo modo che riusciamo a garantirti prodotti fatti su misura che rispondono a qualsiasi esigenza. Le persone che come me lavorano in Gibus sono precise, diligenti, appassionate. Molti di noi ogni giorno testano e studiano innovazioni per riuscire ad aumentare la qualità del prodotto e soprattutto la soddisfazione dei clienti.